bella a tutti ragazzi io sono super jets alfa e benvenuti in questo nuovo video del nuovo critico a spezza tre nuove linee di filobus controllo smog vediamo un po cos'è di cosa che notizia è questa il comune supporto sui mezzi ecologici e potenzia la flotta di corriere a batteria parte la ristrutturazione di fermate e parcheggi a bene ok perfetto la spezia viabilità urbana il comune della spezia sposa la linea verde il dossier per abbattere l'inquinamento favorendo la mobilità non inquinante è stato studiato da christopher casanti assessore al traffico del comune insieme ai tecnici gialluca rinaldi massimo trovandi poggia su assi che vedono il potenziamento della filovia con il passaggio da 2 a 5 linee con la creazione di nuovi diretti direttrici non solo in agenda il completamento delle infrastrutture con una nuova sottostazione elettrica al ricovero più ampio per ospitare i nuovi filobus e per ospitare i nuovi filobus e ancora c'è il deciso potenziamento della flotta elettrica la ristrutturazione delle fermate e nuovi parcheggi di scambio molti piani in piazza d'armi e per la sport a complemento la centralizzazione semaforica e la stazione ferroviaria di mia linea come polo di interscambio con nuovo parcheggio il b filare giungerà 29 chilometri di estensione minchio un po lunghetto spiega casanti le linee elettriche a regime saranno la 1 per gazzanno miglia rina e come abbiamo visto no raga in quel video dove quel progetto delle nuove linea linea 2 e gli spostamenti che linea 1 non fa più viaggio di prima quelle cose lì è qui è una è una revisione di quello che può essere di quello che la nuova visione delle linee comunque si non ce la faccio la linea 1 per gazzardo miglia rino con filobus da 12 metri la nuova 2 la linea 2 nuova non è mimica esiste adesso e ferranno una nuova linea 2 chi appa chi appa chi appa bragarina che invece avrà quattro mezzi poi la 3 chi appa felettino con un poker di filobus inediti per la spezia che cazzo è vabbè da 18 metri e la 12 la linea 12 per gazzano favaro con altri tre filobus da 12 metri c'è poi la linea 37 vabbè quella l'abbiamo visto che ci sono già i filobus lì in filo su una linea 37 e tanti servizi di recente oltre a quelle per i parcheggi di scambio al polo crociere su fronte fermate 16 saranno realizzate ex 9 metri chilometri totali svolti in elettrico previsti saranno 940 mila l'anno con 18 mezzi da 12 metri e 4 da 18 tutte queste tutto questo grazie al bando vinto al ministero delle infrastrutture che garantisce oltre 30 mi qui hanno sbagliato a scrivere milioioni miloioni miloio vabbè 30 milioni correggo io dice casati questo è pieno di sostituzione dei veicoli allora i sette bre da bus del 1988 quelle lì che hanno 30 anni di servizio quei filobus vecchissimi presentano alcune criticità vabbè oltre a guastarsi tutti i giorni vabbè l'assenza di spazio di carrozzine lo sappiamo bene una volta una è tanto lo stesso quello che con il carrozzino però deve scalare lì sono gli scalini nell'autobus non è che comunque oltre al fatto che i 30 anni di servizio e 30 anni sono minchia se sono anni 30 anni di autobus determinano problemi per la manutenzione e mi sembra ovvio minchia trovare pezzi di ricambio per autobus così vecchi è già un impreso dice saranno acquistati 22 nuovi filoveicoli di cui 18 da 12 metri e 4 da 18 e metri oltre a uno di scorta a ci sarà anche uno di scorta ok a questi si uniscono gli otto trollini quelli che ci sono adesso no quelli più moderni quelli che sono arrivati nel 2015 2013 che abbiamo da alcuni anni questi nuovi mezzi sono dotati di strutture più performanti previsto anche l'arrivo di un nuovo mezzo di traino visto che quello di servizio è dal 1984 è un'officina mobile ok e conclude il piede della mobilità urbana vuole favorire un potenzialmente deciso del trasporto pubblico con spinta verso l'elettrico per quanto riguarda le altre infrastrutture sarà realizzato il tratto terminale di filo via che giungerà la stazione di migliorino per quello per toccare il felettino con altri interventi sulla linea 12 è quella per le crociere fine è finito tutto qui quindi hanno vito il bando per fare sta cosa qui si vedrà quando cominceranno già a fare tutto a preparare già tutto perché l'arrivo dei filo bus per le nuove linee ci sarà subito un video su quello ragazzi noi aspetteremo le notizie di questa cosa qui spero che questo video vi sia piaciuto quindi se vi sia piaciuto mi piace commentato iscrivetevi e ciao ragazzi noi ci ribecchiamo alla prossima